Per preparare questo dolce occorrono pochi ingredienti e pochissimi minuti. In questa videoricetta l'ho preparato col cioccolato, ma potete tranquillamente sostituirlo con della frutta, l'importante è che sia matura. Sono Pam e questo è il mio canale, sana, veloce e vegetariana. Taglio il cioccolato con il coltello per evitare di scaldarlo. Dolcifico lo yogurt greco con il malto di riso, ma liberissimi di usare lo zucchero se preferite. Cioccolato, altra rimestata e metto da parte. Bevanda di avena in un piatto piano. Gimmergo i biscotti, badando a che non diventino troppo morbidi. E li adagio in una teglia. Copro i biscotti con lo yogurt, cercando di stenderlo uniformemente. Ancora un po' di cioccolato in scaglie, un altro strato di biscotti, un secondo strato di yogurt, scaglia di cioccolato, biscotti, terzo strato di yogurt. Copro con la pellicola e metto in frigo per un'oretta. Ora è freddo. Spolvero con cacao, decoro con scaglia di cioccolato ed è pronto per essere servito. Con lo stesso procedimento preparo questo dolce in formato monodose, molto comodo se avete ospiti. Spezza i biscotti perché il diametro dei bicchierini che sostituiranno la teglia è insufficiente per un biscotto intero, ma l'importante è creare la base. È davvero semplice da preparare.